Partita la quarta edizione del Trofeo Copas qui all'Accademia del Tennis Sassari, siamo ospiti di Carlo Più che presenta questa manifestazione che ogni anno regala davvero emozioni. Sì, siamo alla quarta edizione del Trofeo Copas, ringrazio prima di tutto il main sponsor, la Copas che già da più di due anni ci sostiene nello svolgimento della manifestazione. Abbiamo migliorato sui numeri in tutti gli aspetti, sia nel Motepremi che siamo arrivati a 5.000 e poi anche sul numero dei giocatori abbiamo raggiunto 150 iscritti, quindi veramente una grande soddisfazione per tutti, per noi organizzatori, per le persone che vengono a vedere gli incontri, c'è grande sportività. Abbiamo giocatori anche dal continente, dalla Svizzera, da Bolzano, adesso qui davanti proprio loro. Sì, una soddisfazione grossa per chiudere una stagione in bellezza, questa stagione che ci ha dato molte soddisfazioni soprattutto nel settore giovanile che è quella a cui noi interessa di più, titoli regionali under, promozioni in diversi campionati, quindi grazie alla direzione della maestra Linda Ferrando abbiamo fatto veramente una stagione fantastica. Sì, la felicità chiaramente si vince da quello che hai appena detto, appuntamenti per le finali, sabato al mattino la femminile, domenica la maschile per questi ragazzi, ripeto 150, davvero un grande numero, però chiaramente anche il torneo che è diventato appetito, visto anche quello che è il Montepremi che è davvero importante, quindi grande impegno, però anche grandi soddisfazioni per chi poi porterà a termine questa performance, no? Questa è Kermesse. Sì, confermo tante soddisfazioni, il Montepremi attira, abbiamo alcuni giocatori che ormai vengono da anni, non mi viene subito Barbara De Solis, che è la giocatrice che partecipa dal primo anno, quindi da quattro anni a questa parte, e sì, siamo felici, una stagione fantastica che si chiude con un bel torneo.